Sia sigma maiuscolo, la superficie individuata dalle seguenti limitazioni x, y, z appartenente a R3, tale che x quadro più y quadro più z quadro sia minore o uguale di 1 con y uguale a z, è orientata in modo che n scalare a E3, versore fondamentale dell'asse z, sia maggiore di 0. Sia inoltre v da R3 a R3, il seguente campo vettoriale v di x, y, z appari a 0, meno x quadro, 2y quadro. Le domande a calcolare il flusso di v attraverso sigma maiuscolo e calcolare la circuitazione di v intorno alla frontiera della superficie sigma. Problema esercizio che abbiamo già risolto più volte, altre volte, in questo caso tratto da un testo d'esame assegnato alla facoltà di ingegnere aerospaziale dell'Università Roma Sapienza, uno o due canali, il 4 giugno del 2015, quindi un pochino più di un anno fa, ad oggi, nel momento in cui stiamo pubblicando questo video. Allora, due domande. flusso di v attraverso sigma maiuscolo, ora direi di parametrizzare sigma maiuscolo, se y è uguale a z, vuol dire che risulta che quando y è z, vuol dire che x quadro più due volte z quadro è minore uguale a 1, quindi direi di utilizzare la seguente parametrizzazione del tipo x uguale a u, y uguale a v, ma siccome y uguale a z, anche z uguale a v, dove d, dominio base, è uv appartenente a r2, tale che u quadro più due v quadro è minore uguale a 1, va bene? Io direi di farlo in questo modo. Ora, non c'è bisogno adesso di calcolare, se volete fare la prova e calcolare lmn, quindi in pratica il prodotto vettoriale sigma u, vettor sigma u e poi fratto la norma, no? Ma domanda, ma conviene farlo? È inutile perché in questo caso la normale giace sul piano y meno z uguale a 0, quindi avrà componenti di questo tipo, 0, 1, meno 1 fratto la radice uguale di 2, cioè fratto la radice uguale di 0 al quadrato più 1 al quadrato più meno 1 al quadrato, 1 più 1, 2, più 0, 2, eccolo qua. Occhio al segno però, perché a noi ci dicono che è orientata alla superficie, in modo che valga il prodotto scalare, dunque come già vi ho spiegato altre volte, questo Econ3 rappresenta il versore fondamentale della z, quindi non è altro che il versore K, in pratica, in molti testi come mi viene in mente il Ber Giacomelli, perché in effetti è proprio Lorenzo Giacomelli, il docente che assegna questo esercizio, posso dire, evidentemente è l'autore, insieme a Roberta D'Appasso e a Bers, amica Bers, del testo utilizzato in molte parti d'Italia, però in questo caso non è coerente, allora dobbiamo cambiare i segni, quindi in questo caso avremo un 0, meno 1, 1 fratto la radice di 2, quindi occhio al cambio, occhio al cambio, quindi è immediato, calcolare la normale in questo caso perché già è sul piano y uguale a z, e allora abbiamo che il flusso, che è l'integrale, il flusso di V, l'integrale esteso a sigma maiuscolo di V, proprio scalare N in D sigma, che cosa è uguale? È uguale all'integrale doppio, esteso a D, dove D è questo qui, del prodotto scalare tra V che è 0, dunque meno U quadro, perché X è uguale a U, 2V quadro, scala 0, meno 1, 1, fratto la radice di 2, per radice di 2, dv, perché il decima è la radice di 2, questi due come succede, come succede se ne vanno, perché poi così dopo, quando calcoliamo la circuitazione, utilizzeremo il teorema del rotore, il teorema di Stokes per, ci porteremo avanti, visto che già molti calcoli li avremmo fatti, penso che la risoluzione, in questo caso, corretta sia questa. Allora, andiamo a fare questo prodotto scalare, questo è uguale all'integrale doppio, esteso a D, D, 0 per 0, 0, abbiamo un meno U quadro per meno 1, è un U al quadrato, più 2, V al quadrato, D, U, D, V, tra il doppio dove il dominio base è quello, devi passare a coordinate ellitiche in questo caso, no? del tipo U uguale Rho coseno di teta, attenzione, V uguale 1 fratto radice di 2, Rho seno di teta, in modo tale che poi il nuovo dominio, lo chiamiamo di primo, sia del tipo Rho teta appartenente Rho, tale che Rho quadro cosquadro teta, dunque 1 fratto radice di 2 al quadrato è un mezzo, due mezzi e uno, più Rho quadro sen quadro teta, minore o uguale di 1, che raccogliendo a fattore comune un Rho al quadrato, ci rimane sempre cosquadro teta più sen quadro teta che è uno, Rho quadro, minore o uguale di 1, quindi avremo che di primo sarà caratterizzato dalle seguenti limitazioni, Rho compreso fra 0 e 1 e teta compreso fra 0 e 2π, faccio notare che in questo esercizio potremmo già da subito utilizzare come parametrizzazione di sigma le coordinate cilindriche volendo, quindi questo è un modo, potremmo anche farlo nell'altro modo, andiamo quindi a risolvere, dunque attenzione che c'è da non dimenticare una cosa, il giacobiano in questo caso non è Rho del Rho di teta, ma è 1 fattore radice di 2 Rho del Rho di teta, perché se lo calcolate, andiamo a calcolarlo, o di, lo possiamo cancellare visto che abbiamo appurato che è quello, se calcoliamo il giacobiano, fate la prova se non siete sicuri, dobbiamo derivare la U rispetto a Rho, la cui derivata è cos teta, la U rispetto a teta, la cui derivata è meno Rho sen teta, poi dobbiamo derivare la V, sia rispetto a Rho che rispetto a teta, derivata di V rispetto a Rho è un 1 fratto radice di 2 sen teta, derivata della V rispetto a teta è 1 fattore radice di 2 Rho cos teta. Se moltiplichiamo gli elementi della deconale principale meno il prodotto degli elementi della deconale seconda e otteniamo, vedete, 1 fattore radice di 2 Rho cos quadro teta più 1 fattore radice di 2 Rho sen quadro teta, raccogliendo il fattore comune, 1 fattore radice di 2 Rho, rimane questo cos quadro teta più sen quadro teta che per la prima relazione fondamentale è sempre 1, quindi vedete che in effetti il giacobiano è questo. Quindi questo diventa integrale di doppio, esteso a di primo, nuovo dominio nelle coordinate Rho e teta, con Rho compreso fra 0 e 1, teta compreso fra 0 e 2 pi greco di, qua avrebbe un Rho quadro, abbiamo visto, per 1 su radice di 2 Rho, quindi 1 fratto radice di 2 Rho cubo di Rho di teta, dove a questo punto conviene di comporlo, quindi verrà 2 pi greco perché verrà integrale tra 0 e 2 pi greco di d teta per l'integrale fra 0 e 1 di 1 fratto radice di 2 Rho cubo di Rho. Facciamo questi facili conti, l'integrale fra 0 e 2 pi greco di d teta e 2 pi greco, quindi abbiamo un 2 pi greco fratto radice di 2 che moltiplica l'integrale di Rho al cubo che ve lo ricordo è Rho quarto quarti, tra 0 e 1, ma Rho quarto quarti tra 0 e 1 è un quarto meno 0 quarti, quindi è un quarto, quindi in pratica vediamo che 2 su radice di 2 è razionalizzato a radice di 2, otteniamo radice di 2 pi greco quarti e questo è il risultato, ovvero il flusso di V attraverso S maiuscolo. Per calcolare a questo punto la circuitazione conviene utilizzare come detto il teorema di Stokes, il teorema del rotore, anche perché abbiamo già fatto alcuni calcoli più importanti, li abbiamo fatti. Allora abbiamo che, per il teorema di Stokes ve lo ricordo, l'integrale, la circuitazione, cioè l'integrale di curvinio, la frontiera di sigma di V, scalare a tau in D sigma, è pari all'integrale del senso ad S, senso a sigma maiuscolo in questo caso, del prodotto scalare fra il rotore di V e la normale in D sigma. Dunque la normale la conosciamo, in D sigma è la radice di 2, lo conosciamo, la normale è, dipendiamo dai conti precedenti, è un 0, meno 1, 1 fatto a radice di 2, per radice di 2 è semplificato, dobbiamo accolare il rotore di V. Un po' di velo di gomito. Allora, calcoliamo il rotore di V, molto facile, deriviamo la Z, questa è X grande, questa è Y grande, questa è Z grande, o A, B e C, deriviamo la C, la Z grande rispetto ad Y, quindi abbiamo 4Y meno 0, perché la derivata della Y grande fatta rispetto a Z è 0, derivata della X grande fatta rispetto a Z che è 0, meno la derivata della Z grande fatta rispetto ad X che è 0, quindi 4Y è 0, deriviamo, è meno 2X, meno 0, perché derivata della funzione di mezzo della seconda componente fatta rispetto ad X meno la derivata della prima componente di X grande fatta rispetto ad Y che è 0, meno 2X, meno 0 è un meno 2X, 4Y, 0 e meno 2X sono appunto le componenti del rotore. La tradizione è che noi, vi ricordo, abbiamo utilizzato la seguente parametrizzazione per sigma che è X uguale U, Y uguale V, Z uguale V, quindi in questo caso diventerà l'integrazione doppio esteso a D, dove D è sempre U quadro, l'ho cancellato, ma D è U quadro più 2V quadro minore uguale a 1, lo scrivo poi qua, lo scrivo dopo poi. del prodotto scalare fra, allora, 0,2 di V e 4Y, 0,2 di X sarà 4V 0, meno 2U, perché ripeto, X è uguale U, Y è uguale V e Z è uguale V, scalare 0, meno 1,1 fratto radice di 2, per la radice di 2, D U, D V, va bene? Non ci sono dubbi, D, ve lo ricordo, è UV appartenente a R2, tale che, ho cancellato, l'ho scritto anche prima, ma lo riscrivo con piacere, con piacere, scrivo, perché lo devo riscrivere, U quadro più 2V quadro minore uguale a U. L'ominio base che abbiamo ottenuto, in pratica, ponendo iso che Y uguale Z, viene X quadro più 2Z quadro minore uguale a U, visto che abbiamo posto X uguale U, Y uguale V, in pratica U quadro più 2V quadro minore uguale a U, questo integrale viene uguale, integrale doppio, esteso a D, vediamo di che cosa, di questi due, ovviamente se ne vanno, 4V per 0 è 0, 0 per meno 1 è 0, meno 2U per 1 è meno 2U, ma guardate un po' che succede, questa qui è un'ellisse di semiassi 1 ed 1 fratto radice di 2, e quindi presenta sicuramente una simmetria sia rispetto all'asse U, che rispetto all'asse V, ma questa è una funzione dispari rispetto a U, questo integrale ovviamente è 0, però vi motivi simmetrici. Ultimamente uno studente mi ha un po' stalkerizzato, mi ha fatto alcune domande sulle simmetrie, ragazzi se avete dubbi guardatevi là il video di spiegazione teorica, spiegazione introduttiva sulle simmetrie, che è un video che non è che mi sono inventato io, è un video che trovate anche in molte dispense online di docenti universitari, esimi di docenti universitari e anche nei testi, i testi un po' meno, ma sono cose che non mi invento io, le regole che vi do, quello che vi dico, non è che me le invento io, viene fuori da, non è che devo portare per fare sempre le prove, devo fare lo scanner della fotocopia del testo dal quale prendo, del docente dal quale mi nutro, non c'è bisogno, se ve lo dico vuol dire che è così, quindi non è che alcune domande nei post mi fate, ma è sicuro che così, ma il mio professore mi ha detto, ragazzi poi vi do un consiglio, se giustamente avete dei dubbi in merito a quello che vi viene detto in questo canale, rivolgetevi al vostro docente, vedrete che le cose andranno a collimare, cioè andranno a coincidere, poi il linguaggio può essere un po' diverso, alcune terminologie, alcune metodologie, però alla fine sempre quello è, quindi ricapitolando, abbiamo calcolato il flusso di V attraverso il sin maiuscolo, in questo caso la circuitazione di V attorno alla frontiera di sin maiuscolo vale 0.